Buongiorno, grazie di essere tutti qui, benvenuti a questo incontro del quale sono particolarmente orgoglioso che siamo riusciti a metterlo in piedi. Siamo molto fortunati infatti oggi di avere con noi Nona Michelizze che è una ricercatrice nata in Georgia e ormai in Italia da una ventina d'anni per parlare della guerra in Ucraina, guerra in Ucraina che è cominciata diciamo nella sua fase attuale il 24 febbraio 2022, quindi siamo quasi a mille giorni dall'inizio della guerra come dicono lì a tutto campo una guerra che però è cominciata dieci anni prima con l'invasione sorrettizia dell'Ucraina da parte della Russia e di ciò siamo fortunati perché Nona è con noi dopo un lungo viaggio di diversi giorni che l'ha portata da Kiev dove eri fino a pochi giorni fa a Conversano e volevo cominciare l'incontro proprio col chiederti Nona che cosa porti con te da questo tuo soggiorno e qual è lo stato d'animo degli ucraini in questo momento come insomma che aria tira dopo appunto mille giorni di guerra a tutto campo Buongiorno, innanzitutto volevo ringraziare i organizzatori per l'invito, te è un piacere per me essere qui e avere la possibilità di parlare di Ucraina e di condividere con voi l'esperienza recente di stare in un paese di guerra e condividere anche le emozioni insomma che si prova in questi casi specialmente con i giovani quindi fa piacere che appunto giovani si interessano di questi temi questo è stato il mio terzo viaggio dall'inizio della guerra in Ucraina prima sono stata varie volte perché appunto l'Ucraina così come tutto lo spazio ex sovietico rientra un po' nel mio campo di ricerca quindi mi occupo ormai da anni i temi che riguardano anche i processi di democratizzazione di questi paesi ma appunto dall'inizio della guerra sono andata per la terza volta quindi ho potuto anche fare un'analisi comparativa di come sono stati gli ucraini come affrontano la guerra o avevano affrontato nel primo anno di invasione e come li ho trovati quest'anno e c'è aspetto umano poi c'è aspetto politico aspetto economico delle condizioni del paese e vorrei cominciare dall'aspetto umano perché poi questa guerra purtroppo è quella che non si concentra solo su campo di battaglia questo non è guerra dove si scontrano i soldati di due paesi questa è guerra dove la Russia fa la guerra ai civili ucraini ogni giorno e le vittime sono dei civili e questo si capisce molto bene una volta arrivati in Ucraina già dal fatto che non c'è un giorno in cui non ci sia allarme in cui gli ucraini non sono chiamati di andare nei bunker antiaerei e questo accade di notte ed è anche per questo che uno dei ultimi sondaggi fatti dice che circa 9 milioni di ucraini hanno mostrato un disordine psicologico dopo tre anni di guerra questo vuol dire quasi ogni terza persona in Ucraina perché appunto l'Ucraina adesso dentro il suo paese conta circa 27 milioni, 8 milioni sono in emigrazione forzata, rifugiati in Europa altri sono sul fronte e con terza persona accusa un disordine psicologico da quelle condizioni in cui gli tocca di fare la resistenza se uno visitasse i regioni più vicini al fronte all'Ucraina si accorgerebbe che gli uomini e donne nei suoi 30 anni tutti hanno già i capelli grigi e poi c'è la questione dei bambini che vivono nella parte orientale perché per questi bambini poi ci sono vari programmi di riabilitazione uno di questi programmi vuole che il gruppo di bambini arrivino dalla parte orientale alla parte occidentale per passare un po' di tempo in tranquillità e si sono accorti che i bambini portati dall'Oriente una volta arrivati in Occidente dove comunque ci sono degli allarmi non mostrano alcuna reazione sui allarmi o sui rumori di antiaerea l'antiaerea ha un rumore di esplosione della bomba poi adesso l'Ucraina ha imparato di distinguere qual è il rumore dell'esplosione di un missile e qual è il rumore dell'esplosione di antiaerea che riesce a colpire il missile e a batterlo ecco i bambini non mostrano più alcuna reazione a questo tipo di rumori ma di più hanno avuto la difficoltà per una settimana di dormire in silenzio sono talmente abituati ai rumori di guerra questo per dire di parlare della traccia di guerra che sta già avendo sulle ucraini ma nonostante ciò se uno mi chiede se riassumere in due parole la condizione degli ucraini è quella della morte e della vita nello stesso tempo della caduta e del rialzo e questo gioco fra morte e vita si nota anche viaggiando e vedendo i posti distrutti ma poi vedere anche i cantieri subito per ricostruire quegli posti distrutti saranno queste le scuole, gli ospedali, infrastrutture civili perché la Russia poi bombarda proprio le infrastrutture civili i ponti eccetera quindi c'è questa resilienza la resistenza insieme ad enorme ovviamente stanchezza ma c'è la percezione e come mi è stato detto lì che comunque non può che andare bene perché loro dicono noi siamo condannati di essere ottimisti altrimenti nelle guerre e loro questo percepiscono come un guerra di genocidio perché si sentono attaccati nel loro essere ucraini attaccati per obiettivi di cancellare la loro identità perché appunto di come insomma vengono bombardate le infrastrutture civili poi e di come la Russia sta amministrando i territori occupati e ormai insomma ci sono vari rapporti delle Nazioni Unite più di ventina che descrivono le condizioni degli ucraini nei territori occupati che parlano delle camere di tortura dove appunto vengono presi ucraini torturati accusati che passano l'informazione ai soldati e quindi o costretti di rifiutare il passaporto ucraino o se magari li trovano la bandiera ucraina a casa vengono subito sottomessi alle torture lì appunto tutta questa guerra poi fa percepire agli ucraini che è proprio contro di loro quanto ucraini che lì vengono meno poi tutte le discussioni che facciamo noi qua in Europa o in occidente geopolitici, gli interessi degli Stati Uniti la Nato, l'Unione Europea eccetera lì la guerra è molto più umana in quel senso che si sentono proprio attaccati nell'essere loro esseri umani essere ucraini quindi se primo anno quando sono andata primo anno di guerra lì ho trovati in qualche modo feriti e stupiti dal livello della crudeltà ma soprattutto secondo me il più male che faceva a lui era a loro era la domanda su quale non trovavano non trovavano la risposta adesso come si hanno abbandonato la ricerca quella risposta ma il primo anno c'era sempre nella loro testa quasi ossessione di trovare la risposta alla domanda perché perché ci hanno fatto questo e perché ci trattano così perché comunque con tutta questa narrativa che i russi stavano diffondendo sulla fratellanza fra la Russia e l'Ucraina sul popolo quasi unico eccetera poi al di là della propaganda effettivamente lì ci sono tanti matrimoni rimisti fra gli ucraini e i russi quindi parentele in Russia e viceversa e quindi non si capacitavano nonostante la guerra non è cominciata 24 febbraio 2022 ma è cominciata 2014 comunque era molto concentrata nella regione di Donbass dopo l'annessione della Crimea e lì paradossalmente i rapporti fra i russi e ucraini non sono stati rovinati del tutto insomma non si sono spaccati le famiglie mentre questa guerra ha proprio spaccato questi rapporti a tal punto che ci sono dei parenti la zia che non chiama più il nipote a Kiev oppure se il nipote chiama e gli dice ma perché ci state bombardando da lì si risponde il vostro governo che vi sta bombardando quindi lì c'è poi tutto un altro problema di propaganda che si fa lì dietro lì dentro la Russia quindi a quello che credono i russi quest'anno quindi primo anno era proprio quel stupore quel dolore di sentirsi quasi traditi ecco nel profondo io mi ricordo quando ci hanno portato in una città in un villaggio che si chiama Yahidne in una regione di Cernichev al confine con il Belarus Yahidne è stato occupato in una settimana dopo l'invasione russa i soldati russi hanno raccolto 370 abitanti del villaggio e li hanno rinchiusi per un mese in una sottoterra di una scuola in quella sottoterra volevano fare una palestra che non si è mai fatta quindi un posto di cinque stanze piccole dove sono stati rinchiusi 370 persone da quei 77 bambini la bambina più piccola aveva due mesi e a raccontare la loro storia è stato uno dei sopravvissuti Ivan un uomo di 63 anni che dice che per ciascuna persona c'era 50 centimetri solo noi non potevamo neanche straiarsi dovevamo essere seduti per quasi un mese con i gambi gonfi che la pelle che si spacca perché appunto non riesci a straiarti 11 persone morirono lì in prima settimana della prigionia largamente degli anziani perché c'era il problema anche di respirare i russi non permettevano di seppellire i cadaveri in decomposizione solo dopo alcuni giorni li hanno permesso di portare nel giardino della scuola i cadaveri e mentre scavavano la fossa hanno cominciato a sparare per spaventare gli altri poi minarono il percorso del bagno fra la sottoterra e fuori nel giardino della scuola per evitare che ucraini scappassero e quando vai in questo posto vedi insomma le mure con i disegni dei bambini no alla guerra e poi vedi il calendario del mese di marzo che Ivan mi diceva questo era il calendario i giorni che contavamo verso la morte perché nessuno di noi aveva la speranza di uscirne vivo da lì e poi c'è un giorno magico 30 marzo sotto quale c'è un cuoricino e c'è scritto nasci Prishli cioè i nostri sono arrivati il giorno quando Ucraina questo 2022 il mese di fine marzo riesci a liberare quattro regioni del nord arrivano lì e liberano 370 abitanti prigionieri dei russi da quel sottoterra e quando un giornalista italiano gli ha fatto la domanda ma voi sapete perché vi trattavano così lui ha detto no per loro eravamo meno dei cani quindi questa è la sensazione di essere meno dei cani un po' di tutti gli ucraini in guerra quindi questo quanto concerne adesso tutto aspetto umano di quelli tre viaggi insomma che ho fatto in Ucraina poi c'è tutto un aspetto politico ecco appunto abbiamo parlato dell'aspetto umano e ti ringrazio per questi resoconti queste testimonianze ora tu sei anche un'esperta di geopolitica lavori all'istituto per gli affari internazionali che è un quello che si chiama un think tank cioè un'organizzazione che studia la realtà produce dei rapporti delle inchieste sui fenomeni sui quali lavora e poi propone anche delle soluzioni delle proposte di quello che si chiama policy insomma di politiche varie e quindi ti sei interessato anche molto al versante politico ora siccome abbiamo un pubblico di ragazzi che magari ha gli aspetti più di geopolitica non so se si interessano e comunque se avete domande avremo un po' di spazio dopo o se c'è qualcosa che non è chiaro non esitate ad alzare la mano a chiederlo non c'è niente di male in un contesto così complesso a che le cose non siano del tutto chiare appunto dal punto di vista invece della politica dei governi dove sta dove sta andando questa guerra quali prospettive di di soluzione ci sono hai evocato la stanchezza a un certo punto anche degli ucraini dopo quasi tre anni di guerra hanno dimostrato una resilienza incredibile cioè una capacità a resistere alimentata forse anche dalla rabbia dalla voglia di non cedere dal fatto che l'Ucraina è una democrazia recente imperfetta ma pur sempre una democrazia la Russia no sempre meno e non hanno nessuna voglia di essere come la Russia si capisce appunto tra puntista politico che tipo di soluzioni si vedono si può intravedere il tema del nostro incontro è guerra senza fine ma le guerre a un certo punto devono finire che tipo di di esito di che tipo di esito si parla adesso o che tipo di esito è sempre realistico allora come dico c'è la stanchezza ma come se poi non ci fosse altra via ma combattere insomma l'approccio degli ucraini è quello che loro sono destinati a combattere altrimenti vengono e ci ammazzano tutti quindi la resistenza senza fine anche se siamo stanchi questo è un po' approccio poi io l'anno scorso quando ero lì lì si è parlata della guerra che si poteva durare altri 4-5 anni quindi adesso siamo un anno dopo quindi altri 3-4 anni e si faceva riferimento ai studi che si sono fatti anche sulle risorse attuali e il ritmo e capacità della Russia di produrre le armi insomma quindi 4-5 anni è considerato quell'arco quanto ecco la Russia dovrebbe esaurire avere già difficoltà di esaurire le scorte avere la difficoltà di produrre nuove armi nelle condizioni dei sanzioni poi la durata della guerra ovviamente dipende non solo dagli Ucraini ma dipende dalla politica dell'Occidente perché se Ucraina oggi sta in piedi è grazie innanzitutto della resilienza della resistenza degli Ucraini dei soldati dei civili quindi della resistenza militare e civile ma ovviamente è grazie anche all'Occidente che manda le armi e permette agli Ucraini di resistere ma la politica dell'Occidente dell'amministrazione Biden molto appoggiata dalla Germania del cancelliere Scholz è stata sempre quella di escalation management cioè gestire l'escalazione che si può tradurre così l'Ucraina non deve perdere ma questo non significa necessariamente che l'Ucraina debba vincere questa guerra perché in in Occidente c'è la paura ma senza soprattutto della visione e della strategia nei confronti della Russia e c'è la paura della sconfitta della Russia c'è la percezione che la sconfitta della Russia causi poi degli eventi incontrollabili dentro la Russia che magari porta a disintegrazione del paese e la Russia è comunque un paese nucleare quindi c'è la paura anche nelle mani di chi possono cadere gli armamenti nucleari quindi l'approccio dell'Occidente in questi due anni e mezzo in contrario con quello che si dice poi nel dibattito italiano che è tutto un altro capitolo secondo me puoi affrontare anche il dibattito malsano e quanto è stato malsano il dibattito italiano sull'Ucraina e la guerra che ecco cosa vogliamo insomma sconfiggere la Russia arrivare a Mosca in realtà l'Occidente non ha mai voluto sconfiggere la Russia occidente da quel quantità di armi che permette all'Ucraina di tenere il fronte e di non permettere a nessuno delle parti di avanzarsi più di tanto e nella strategia occidentale questa condizione di stalo infatti quello che abbiamo visto noi ultimi un anno e mezzo era una guerra di stalo dovrebbe spingere alle parti del conflitto di sedersi al negoziato di pensare che ok insomma da un anno e mezzo qua non si muove quindi conviene di negoziare solo che solo per precisare è da un anno e mezzo che la situazione sul fronte è grosso modo ferma vuol dire che la Russia occupa circa il 20% del territorio ucraino voi immaginate per fare un paragone con l'Italia l'Italia ha 20 regioni il 20% sono 4 regioni immaginate 4 regioni italiane occupate da un paese ostile e straniero adesso stiamo cercando di mostrare una mappa dell'Ucraina sullo schermo così potete avere un'idea un po' più chiara e la situazione ferma appunto da quasi un anno e mezzo però non è che non succede nulla nel frattempo l'operazione Kurska appunto quindi questo è stato approccio degli occidentali condannare l'Ucraina appunto di combattere di avere abbastanza le armi per tenere in fronte ma non andare seriamente sulla offensiva e perciò che l'Ucraina rovescia la tavola diciamo innanzitutto agli occidentali appunto e decide per l'operazione di Kursk quindi cambia completamente la narrativa di questa guerra e in pratica da che Putin doveva prendere Kiev in tre giorni adesso trova gli ucraini a occupare la metà della regione insomma una parte della regione Kurska territorio russo poco sopra c'è scritto Russia e poco sopra c'è scritto Kurska gli ucraini insomma a inizi di agosto hanno attraversato il confine e sono andati a occupare il territorio russo che ovviamente nella strategia ucraina mira al rafforzamento nelle loro posizioni in un eventuale negoziato dove puoi trattare la terra insomma io ti ridò questo e tu mi ridai quest'altro quindi la situazione oggi da parte dell'occidente per adesso non è cambiato poi adesso sappiamo che Zelensky sta in viaggio negli Stati Uniti però la posizione occidentale per adesso vediamo cosa ne esce fuori da questo viaggio ma per adesso rimane questo che insomma noi appoggiamo l'Ucraina ecco però la nostra speranza è negoziato mentre l'Ucraina dice che guardate se vi ricordate Lulio Zelensky aveva detto che i russi potevano attendere il summit di pace a novembre in estate si è fatto il primo summit di pace al cui la Russia non ha partecipato dopodiché gli occidentali i paesi del sud globale hanno in pratica fatto la richiesta da Zelensky di invitare i russi al secondo summit della pace Zelensky lo ha fatto lo ha fatto per mostrare poi ai occidentali che guardate io li invito ma poi vediamo se loro vengono in effetti due giorni fa portavoce del ministero degli affari esteri russo Maria Zakharovati ha dichiarato ufficialmente che la Russia non intende di partecipare al summit di pace a novembre e non intende in generale discutere su nessuna soluzione del conflitto che non sia quello di considerare la situazione attuale cioè che cinque regioni dell'Ucraina che sono Kherson Saporizia Crimea Lugansk e Donetsk appartengono alla Russia ma la situazione attuale è che la Russia non sta neanche occupando l'intera regione Kherson e l'intera regione della Saporizia o l'intera regione della Donetsk ma pretende nella sua costituzione ha incluso in realtà tutte le regioni che non sta neanche occupando fisicamente quindi pretende che gli ucraini si ritirino volontariamente dal resto di questi regioni solo perché hanno deciso che ormai è Russia senti hai non hai evocato diverse cose nel tuo ultimo intervento in particolare hai evocato la pace che qui in Italia è considerato come uno dei valori supremi quando si parla di politica internazionale l'Italia ospita un movimento pacifista molto importante il ripudio della guerra inserito nella sua costituzione l'articolo 11 e l'Italia è sempre stato un pochino in bilico tra questa posizione di difendere la fine dell'ossidità a tutti i costi e sostenere invece lo sforzo di resistenza degli ucraini in questo momento proprio mentre parliamo il presidente ucraino Volodymy Zelensky è all'assemblea generale dell'ONU e dice di aver portato con sé il suo piano per la vittoria che è il termine che gli ucraini preferiscono usare rispetto a quello di pace perché pace può essere ambiguo nel contesto ucraino appunto si sa qualcosa di questo piano e qual è la pace o la fine della guerra che potrebbe andare bene agli ucraini o che come dire o che sono disposti ad accettare allora sì perché loro hanno due piani uno che si chiama piano di pace fatta di dieci punti formula di pace e poi c'è questo piano di vittoria che dovrebbe mettere l'Ucraina in una posizione rafforzata in un eventuale negoziato che secondo ucraini se dovrebbe essere pace pace dovrebbe essere giusta pace giusta significa le garanzie di sicurezza per Ucraina innanzitutto significa risarcimento per il danno che si è fatto a questo paese non solo economico che enorme ma anche significa giustiziare i criminali di guerra giustiziare quello è il mio italiano scusate che non è perfetto processare insomma appunto i criminali di guerra quindi fare il processo in generale sui crimini di guerra che compiuti sul territorio ucraino e appunto avere delle garanzie che una volta finita questa fase di conflitto in qualsiasi modo finisca non sarà questo il cessato fuoco su una certa linea del fronte sarà questo il ritiro della Russia o meno le garanzie per Ucraina che in un domani la Russia non attacca il paese di nuovo quindi questo piano di vittoria potrebbe anche includere appunto certe richieste in quel senso insomma perché quale potrebbe essere la garanzia di sicurezza per l'Ucraina e qua si parla poi della integrazione della Nato perché l'Ucraina non può affidarsi alla sicurezza data dai singoli paesi data da Biden perché Biden ecco Harris magari non sarà rieletto a novembre e così c'è nel senso data le garanzie da un paese dove ci sono sempre le elezioni arriva il leader poi qualsiasi leader può poi insomma rifiutare di prendere e implementare impegni presi del governo precedente per questo si dice che insomma non c'è la garanzia più valida di sicurezza che l'articolo 5 della Nato che a questo punto io aggiungerei serve più a noi e non solo all'Ucraina se per esempio prima della guerra 2022 l'integrazione dell'Ucraina nella Nato era percepita come un valore aggiunto solo agli ucraini era all'interesse agli ucraini mentre noi insomma la percepivamo come un qualcosa che magari non valeva la pena provocare la Russia adesso vedo anche personalmente come unico modo di prevenire le guerre future perché in quel modo la Russia insomma ci penserebbe due volte attaccare un territorio che è già incluso nella Nato quindi secondo me si dovrebbe cambiare anche il modo di pensare sull'integrazione della Nato o dell'Ucraina nella Nato come la misura di prevenzione di guerra e non necessariamente di escalation ecco ricordiamo che l'articolo 5 dell'accordo Nato che non ha evocato è un po' il fondamento dell'alleanza atlantica e stabilisce per semplificare che un attacco contro un qualsiasi membro un qualsiasi stato membro della Nato equivale a un attacco contro l'intera alleanza che quindi reagirebbe in modo compatto ed è quello che ha garantito in un certo senso l'equilibrio del terrore durante la guerra fredda così si chiamava perché c'erano questi due grandi blocchi la Nato da un lato e il patto di Varsavia che era l'alleanza costituita intorno all'Unione Sovietica l'antenata della Russia attuale e i due si garantivano che non avrebbero attaccato l'uno non avrebbe attaccato l'altro perché ci sarebbe stata la cosiddetta distruzione mutua e questo era l'equilibrio del terrore piccola digressione scusate senti voglio approfittare per fare con te non l'avevamo previsto ma dico che può essere interessante un gioco di falso o vero io ti faccio delle domande che ci si fa molto spesso intorno al conflitto in Ucraina e tu mi rispondi vero o falso è vero che la Russia ha aggredito l'Ucraina perché l'Ucraina stava per aderire alla Nato no è falsissima ok è vero che il governo di Zelensky stava compiendo un genocidio dei russi nella parte orientale dell'Ucraina è falso ma non basta solo dire falso perché allora il fronte dell'Ucraina orientale è stato sempre monitorato dall'OSCE organizzazione per la sicurezza e cooperazione economica e dai osservatori dell'OSCE che stavano dispiegati lungo la linea del fronte che producevano quasi giornalmente la situazione le violazioni del cessato fuoco e davano i numeri anche quanti morti c'erano fra i civili o soldati e se guardiamo il grafico noi vediamo che dal 2019 i morti anzi già 18 i morti in guerra in Donbass diminuiscono drasticamente quindi l'anno 2022 quando la Russia invade l'Ucraina con la scusa che ecco l'Ucraina sta commettendo genocidio nel 2021 ha commesso il genocidio in Donbass e guardiamo il numero dei morti 2022 il numero dei morti sono 8 persone in tutto l'anno da qui 5 persone sono esplose sulle mine perché poi quel territorio è minato largamente quindi di questo stiamo parlando ma soprattutto poi ci sono dei rapporti russi poi non dimentichiamo che la Russia fa parte dell'OSCE quindi l'OSCE quando pubblica qualcosa la Russia deve dare ok quindi quelli sono i numeri che sottoscrivono anche anche i russi l'ultimo vero o falso è vero che il governo ucraino è pieno di nazisti e per questo l'Ucraina andava denazificata questo è anche una cosa falsa su quale si è speculato molto soprattutto in Italia e non c'è un altro paese in Europa dove si è stato prodotto così tanta disinformazione russa e dato così tanto spazio alla disinformazione russa come come in Italia quanto ai nazisti vi dico che l'ultimo elezioni parlamentari in Ucraina tenuti nel 2019 un partito della destra radicale non ha potuto raggiungere trishold da la soglia di sbarramento da soglia di sbarramento e non è entrato neanche neanche in Parlamento in Italia all'estrema destra quanto fa? in Italia è un po' difficile definire chi è destra chi è estrema destra secondo gli standard europei sono al governo senti parlando dell'Italia l'Italia può avere un ruolo l'Europa che ruolo hanno nella risoluzione del conflitto abbiamo parlato del sostegno allo sforzo militare alla resistenza ucraina ma possono avere un ruolo nella risoluzione del conflitto? No allora l'Italia purtroppo non è un paese che tratta seriamente le questioni della politica estera è un paese molto concentrato su se stesso sul dibattito interno sulle questioni interne del paese dove i temi della politica estera non è neanche diciamo ha dibattuto più di tanto in televisione o nelle piattaforme online in Italia che un po' c'ha questo approccio vogliamo essere amici di tutti che si traduce nella sua politica estera che poi porta anche a questa strana formulazione nei confronti dell'Ucraina che questa c'è la distinzione fra le armi difensive e offensive perché il coltello cioè è difensivo nella cucina ma nello stesso momento può diventare un'arma offensiva e uccidere le persone quindi cosa vuol dire armi difensivi offensivi è anche poco serio come come il dibattito così come adesso il dibattito in corso se permettere o meno all'Ucraina di utilizzare armi occidentali sul territorio russo e missili a lungo raggio allora qua la questione qual è io ho cominciato a raccontare la storia dell'Ucraina con i bambini che non riescono a dormire in silenzio perché sono abituati all'esplosione i missili a lungo raggio servono colpire i basi militari da dove partono quelli missili che non fanno dormire i bambini ucraini o i bombardieri che trasportano i bombardieri che trasportano a differenza della Russia l'Ucraina non bombarda le infrastrutture civili in Russia quindi sarebbe dare la possibilità a loro di permettere di colpire appunto quelle basi militari da dove poi partono questi missili contro i civili ucraini e quindi dire su questa cosa che no per noi questa guerra è difensiva a parte che è proprio assurdo e forse la storia non conosce un altro precedente dove insomma un paese aggredisce l'altro paese e si debba combattere sul paese dell'aggredito insomma forse non è mai stato successo non lo so nel senso recentemente difficilmente si ricorda il caso dove insomma l'Occidente ha messo proprio il vetto insomma come se ha circoscritto l'uso delle sue armi su quel territorio sempre per la famosa paura dell'escalation esatto però comunque secondo me qua vado a citare Timothy Schneider che è uno storico famoso sull'Ucraina che recentemente ha fatto questa audizione alla Helsinki Commission dove appunto parla come l'Occidente ha accettato anche la narrativa russa su questo conflitto cioè di come e questo può portare all'Occidente appunto di dire che solo e i russi diffondono questa questa narrativa che si combatte solo sul territorio ucraino e se si allarga sul territorio russa chissà cosa succede perché la Russia in qualche modo è intoccabile perché la Russia è un grande paese la Russia è un grande cultura la Russia è un grande letteratura è tutto un grande e questo è stato questo anche pensiero imperialista è stato accettato poi dall'Occidente tacitamente senza alcun ripensamento per adesso penso senti visto che hai evocato appunto la la grandezza come dimensioni della Russia vorrei concludere su prima di passare eventuali domande se ne avete lasciandoci qualche minuto se vogliamo due conseguenze della come dire della disgregazione dell'impero sovietico erede a sua volta dell'impero russo nel giro di meno di una settimana tra il 20 e il 26 ottobre due ex repubbliche sovietiche la Moldova che qui vedete chiamata Moldavia insomma ci sono si possono chiamare nei due modi e la Georgia che è il paese dove sei nato che invece è più a est ed è un un paese del caucaso che confina tra l'altro con la Turchia sud e la Russia nord devono votare per delle elezioni che sono considerate molto importanti delle elezioni legislative e un referendum e un referendum sull'adesione all'Unione Europea in Moldova e delle elezioni legislative quindi politiche in Georgia e sono due paesi che sono un po' in bilico perché c'è una come dire nel caso in entrambi ci sono delle truppe russe presenti sul loro territorio e in entrambi i casi le elezioni decideranno se diciamo se fosse una moneta in bilico se cadono dalla parte dell'Unione Europea dell'Europa e dell'Occidente o se tornano in qualche modo nel nel girone nel girone russo quali sono poi le conseguenze quali possono essere le conseguenze dell'una e dell'altra scelta ciò puoi dire brevemente sono questioni complesse ma in poche parole sì innanzitutto secondo me questo non è solo la battaglia ecco fra Unione Europea e la Russia sulla Moldavia e la Georgia perché appunto nel mezzo poi si perde la soggettività questo agency di cui appunto parliamo è difficile quello che pensano veramente o che possono fare i cittadini sono pensare esatto i paesi in mezzo perché perché poi nel dibattito si dice sempre che l'Unione Europea non doveva inferire nei affari del vicinato della Russia loro hanno i rapporti storici ecco non doveva provocare la Russia eccetera in realtà è la scelta che hanno fatto questi paesi una volta trovati davanti al collasso dell'Unione Sovietica e pensando al loro sviluppo in quel caso quando sei un paese piccolo e ti guardi intorno e vuoi avere punti di riferimento anche come modello di sviluppo no? Per loro la Russia non ha cessato di rappresentare un modello di sviluppo la Russia è stata ampiamente associata alla corruzione al nipotismo all'autocrazia al potere verticale al paese dove i regioni i municipalitetti hanno perso qualsiasi controllo di autogoverno dove tutto è stato centralizzato a Mosca e derubato da Mosca poi un paese che realmente è uno dei paesi più ricchi al mondo delle risorse naturali la Russia è uno dei poveri anche se guardiamo la popolazione e quindi è profondamente anche ingiusto nella popolazione russa di vivere in quelle condizioni in cui vivono solo perché si arricchiscono pochi a Mosca o delle grandi città quindi guardando quella Russia da un paese piccolo come Moldavia o Georgia o anche Ucraina in termini non perché Ucraina poi è un territorio grande è uno dei paesi più grandi dell'Europa ma piccolo come peso politico diciamo nelle relazioni internazionali guardando quella Russia e quella Russia ha cessato di essere un modello di sviluppo e poi si è guardata all'Europa dove ha prevalso un fattore umano di volere vivere la vita migliore e quindi in Europa si attira in realtà quello cioè quando si viaggia e si arriva e si vede che la gente qua vive in libertà e nel benessere è anche un fattore umano di saper distinguere insomma da che parte si vive meglio e umanamente poi si sente attirati dal benessere dalla libertà cioè l'essere umano nasce libero e quindi ma soprattutto poi i paesi che hanno esperienza di due anni del colonialismo per questi paesi il valore assoluto diventa la libertà non la vita stessa per questo questa è chiave anche se vogliamo capire il perché e come mai della resilienza e della resistenza ucraina perché poi qua si dice basta che uno si viva insomma ci siamo il fuoco insomma però in questi paesi che hanno vissuto il colonialismo la vita sotto la schiavitù non c'ha quasi il valore quindi il valore primario diventa la libertà e quindi le scelte che si aspettano alla Giorgia e alla Moldavia a Giorgia è un caso un po' più difficile perché non penso che in Moldavia alla fine ci sarà un problema per Maia Sandu presidente Moldavo e le forze pro-europee vincere il referendum mentre in Giorgia la situazione è più difficile non è detto che anche vincendo l'opposizione elezioni il governo poi accetti il risultato e quindi può darsi non dico Venezuela però che ritroviamo in una situazione dove ci saranno necessarie manifestazioni per difendere poi il veto quindi quando si dice c'è la scelta fra Europa e la Russia veramente è la scelta fra democrazia e autocrazia e questa non è la retorica questa è la scelta sul proprio modo di essere e voler modo di vivere insomma nella libertà e nel benessere o cercare quelli valori lì e non nel sottosviluppo nell'autocrazia nell'assenza totale per il rispetto dei diritti umani e questo basta guardare la Russia non solo quello che sta facendo fuori ai suoi confini ma come è la situazione proprio dal punto di vista dei diritti umani dentro la Russia e in che condizioni vivono i russi quindi una scelta fondamentale che me le auguro che vada bene per tutti i due paesi certo andando girando per Belisi la capitale della Georgia si vedono più bandiere europee di quante se ne possono vedere persino a Bruxelles che è la città dove il cuore d'Europa dove vivo io abbiamo qualche minuto per delle domande dei ragazzi del liceo San Benedetto e del liceo Pertini che peraltro lo ringrazio per essere presenti oggi per partecipare all'incontro ci sono cose che volete chiedere a Nona o si prego c'è un gelato in giro un microfono a noi basta a noi basta una sul Mossad cosa ci sapete dire allora questa è un'altra cosa voi siete liceali e vi invito a questa riflessione uno dei grandi peccati del dibattito pubblico in questo paese è questo e voi dovete essere molto più ambiziosi di avere l'opinione di qualità l'opinione di qualità vuol dire che ognuno debba parlare di quel tema che si occupa non esiste non credete agli esperti che oggi vi possono parlare del Medio Oriente dell'Israele Palestina del Libano di Mossad e nello stesso tempo parlare di Ucraina e della Russia questo si chiamano non si chiamano esperti si chiamano dei ciarlatani e quindi io non mi ritengo essere esperta del Medio Oriente qua non siamo al bar dove insomma si può esprimere opinione si può avere su tutto però poi sono posti e posti insomma visto che non siamo al bar o a cena a scambiarci fra gli amici dell'opinione per il rispetto del pubblico io non mi metto mai a parlare delle regioni sarà questo Medio Oriente sarà questo America Latina sarà questo elezioni americane la Turchia o quant'altro di dibattere con voi perché per il vostro rispetto di questo dovete parlare con gli esperti che si occupano della regione io mi occupo della Russia e dello spazio ex sovietico quindi sono più che felice condividere la mia sapienza la mia esperienza sulla regione ma anche voi insomma finché se vogliate di avere un'informazione di qualità cercate appunto di averla dagli esperti veramente di materia e non dai tutologi che inondano il dibattito pubblico ci sono altre domande? comunque forse nona potrebbe parlare dell'FSB del GRU del... ah prego signore l'uomo della strada la situazione di questa guerra russia ucraina sembra in stallo non cambia e la russia si sgretolerà accadrà quello che accadrà ha tanti uomini ancora da lanciare da buttare l'ucraina questo non se lo può permettere lei ne ha parlato a questo punto se ci si deve un po' fermare il caso Corea ci può aiutare come fatto transitorio io capisco che l'aspetto transitorio della Corea è diventato eterno questo è un punto la prego brevemente gentilmente perché l'altro punto riesce ad andare a Mosca lei personalmente tranquillamente grazie allora grazie della domanda ci sono tre domande in realtà lì uno sulla risorse uomini da un lato e l'altro e se avere a disposizione un'infinità dei uomini e la garanzia di vincere le guerre allora guardando alla storia l'Unione Sovietica che era molto più forte della Russia ha perso Afghanistan 1979 invade Afghanistan e Gorbachev poi è costretto a ritirarsi dieci anni dopo essere sconfitto in Afghanistan che a sua volta porta è stata una delle cause del collasso dell'Unione Sovietica e fra l'altro porta insomma costringe Gorbachev a ritirarsi anche la situazione dei morti il numero dei morti che ha avuto la Russia in Afghanistan nelle guerre moderne dopo appunto sopravento prende tanto la tecnologia e non proprio anche se questa guerra lo paragonano sempre alla prima guerra mondiale la guerra delle trincee eccetera comunque anche l'operazione di Kursk insomma ci dimostra che non necessariamente ecco se la Russia avesse avuto delle risorse infinite dei uomini sarebbe stato anche in grado di difendere i propri confini Kursk è stato possibile perché la Russia non ha avuto abbastanza risorse per mandare subito a Kursk perché sono passati già quasi un mese e mezzo che gli ucraini stanno anzi stanno avanzando ancora in Kursk e la Russia ancora non è in grado perché non vuole togliere le risorse dalla Pokrovsk in Donbass dove vuole avanzarsi e mandare su Kursk eppure vediamo che non c'ha le risorse in aggiunta appunto da un lato tenere il fronte sotto e poi mandare anche a Kursk in difesa il problema delle risorse degli uomini in Ucraina attualmente non è nei numeri ma negli armamenti l'Ucraina oggi come oggi potrebbe mobilizzare altri 300.000 uomini ma non ci avrebbe neanche modo di vestirli quindi perché questo ha parlato anche Zelensky che ci sono 14 brigade pronte ma in realtà solo 4 sono armante quindi insomma uomini servono nel momento in cui si è in grado anche di provvedere l'attrezzatura per questi uomini questo quanto risorse militari la seconda domanda sul modello del Corea del Nord il problema del Corea del Nord il problema di quella soluzione che la sicurezza del Corea del Sud quando sono divisi poi è stata garantita dagli americani 200.000 truppe degli americani che hanno dispiegato nel Corea del Sud questa è una opzione che la Russia non accederebbe mai non andrebbe mai a questa soluzione di vedere 200.000 soldati americani sul suolo ucraino quindi è automaticamente escluso come via d'uscita da questo conflitto non dico nulla che la Russia per adesso non mostra proprio nessuna apertura con nessun tipo di negoziato quanto alla sua ultima domanda se io potrei partire a Mosca no io sono stato rifiutato del visto della Russia ben prima di 2022 io 2017 dovevo partire per Mosca a partecipare in una conferenza che appunto dopo 2014 visto che i rapporti fra l'occidente e la Russia si sono guastati per via dell'annessione della Crimea poi si è creato questa iniziativa che è partita dalla commissione europea di far incontrare due gruppi di esperti esperti russi con gli esperti occidentali che devono dibattere sui temi di possibile collaborazione cooperazione eccetera io sono stata inclusa del gruppo degli occidentali e dovevo partire a Roma mi sono rivolta all'ambasciata al consolato russo a Roma e loro non direttamente ma per i motivi dicono biurocratici non tempi abbastanza non avevano la disposizione mi hanno rifiutato il visto e quindi io non ho potuto partire non potrei partire neanche adesso ma sconsiglierei agli occidentali viaggiare in Mosca per un semplice motivo e questo noi della Russia oggi purtroppo non abbiamo parlato ma lo scambio dei prigionieri magari l'avete seguito dove appunto i attivisti politici e i difensori dei diritti umani si sono l'occidente è stato costretto a ridare dei assassini indietro alla Russia sia per riprendere i difensori umani quindi anche se i giornalisti sono in buona fede e ovviamente è ammirevole il loro coraggio di andare quello vuol dire di diventare ostaggi del paese perché quella è la politica appunto di raccogliere il materiale per poi usare come il mezzo di scambio riavere i suoi spie e agenti spesso che sono anche assassini indietro e quindi i giornalisti così rischiano di mettere l'occidente in quella situazione dove deve piegarsi poi alla Russia e ridare dei suoi assassini quindi non posso andare ma non sarebbe neanche saggio di andarci per nessuno dall'occidente grazie a voi e soprattutto grazie agli organizzatori grazie ancora una volta al liceo San Benedetto e al liceo Pertini e grazie soprattutto a Nona Michilizze di essere stata qui con noi oggi grazie a tutti 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 grazie a tutti